Eccolo! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Per chi mi segue su TikTok non può non sapere che cos'è la challenge dei cereali, quindi ho fatto un video dove raccolgo tutti gli episodi, quindi buon divertimento. So, so che la conoscete perché c'è stato un periodo in cui io dovevo rispondere sì, sono quello dei cereali. Ho raccolto tutti tutti gli episodi, dal primo all'ultimo. Se sei nuovo ovviamente commenta con hashtag nuovo iscritto, iscriviti al canale, cercherò di dare il benvenuto a tutti quelli nuovi. Noi ci vediamo venerdì perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica esce un nuovo video alle 18 qua su YouTube. Barbuto è sempre piaciuto, ovvio. Questo video non ha senso. Ha senso. Sono cornuto. Sono il miglior TikToker. Sono incinta. No, questo non è possibile. Chi guarderà questo video lascia un like e mi seguirà. Avrò il coronavirus. Diventerò pelato. Sono brutto. Questo non è giusto. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Uffa, questo qua non esce mai. Sono stato adottato. Ma come? Mamma, mi devi dire qualcosa? Presto diventerò pelato. No! Questa challenge ha un po' stufato. E allora continuiamo. Sono un bellissimo ragazzo. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Questo non esce mai. Mai! Ho un figlio segreto in giro per il mondo. Non sono papà. Mangierò il cibo del mio riccio. No! Buono! Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Ma questo non esce mai. Presto perderò la memoria. Cos'è che stavo facendo? Prenderò il coronavirus. Questo non è possibile. In realtà mia mamma è un uomo. Prima o poi questi cereali finiranno. E allora si continua. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Una volta, dico io. Mi farò i capelli viola. Prima o poi con questo gioco soffocherò. E allora si continua. Sono nato storto. Così? Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Ma è possibile che neanche una volta esce? Sono uno scherzo della natura. Io? Stare sul divano non è uno sport. Dove sono i miei muscoli? In realtà sono nato per sbaglio. Questo lo sapevo già. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Ma perché non esce mai? Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Non ci credo. Finalmente. Sono uno sfigato. Ma come? Entrano tutti oggi. Questa challenge è la migliore di TikTok. Io dico di sì. Sono un fallito. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Non ci credo. Mi farò i capelli arancioni. Direi che viola sono già bastati. Starò un intero anno in quarantena. Meno male. Io già non ce la faccio più. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Mi piace annusare le scarpe. Prima o poi questi cereali finiranno. No. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. E andiamo così. Mi chiuderanno il profilo TikTok. Non ci provate nemmeno. Diventerò un prete. Meno male perché io voglio fare la suola. Nuovi cereali, nuova la corsa. Nella vita precedente ero una vacca. Questo non è possibile. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Finita la quarantena andrò a vivere sotto un ponte. Non finirà mai questa quarantena. Ho una relazione segreta con un mio amico. Forse non lo dovevate sapere. Ciao. Sono gay. Sappiamo tutti che mi piacciono le ragazze. Questa challenge è la migliore del mondo. Non ho capito. Entrate e uscito. Ma entra. Entro una settimana dovrò tagliarmi i capelli da solo. Mi piace annusarmi i piedi. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Dovrò e morirò mangiando cereali. Fa sempre stato il mio sogno. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Mamma mia quel barbuto. Dovrò tenere questo cappello per il resto della mia vita. Almeno per il prossimo mese sicuro. In realtà mi chiamo Ernesto. Barbuto non è il mio vero cognome. Barbuto sempre piaciuto. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. E andiamo. Prima o poi mi crescerà la barba. Questo non è possibile. Giocare alla Playstation è uno sport. Ma come? In realtà quando ero piccolo sono stato abbandonato dai miei veri genitori. Come? In realtà indosso intimo femminile. Oggi ho un tango a zebrato. Una tiktoker americana innamorata di me. Ma come? Barbuto sempre piaciuto. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Barbuto campione. Questi cereali dal colore sono tossici. Infatti sono buonissimi. Cereali dietro di me mi cadranno tutti in testa. In realtà faccio schifo a tutto tiktok. Barbuto sempre piaciuto. Mi seguirai e lascerai like. Barbuto campione. Vivo da solo perché i miei genitori non mi hanno mai riconosciuto. Eccola. Barbuto è sempre piaciuto. Mood di vita. Dovrai mettermi piace e iniziare a seguirmi. Madonna entrano tutti oggi. Dovrai commentare col nome della persona che ti piace. 3 su 3. Questi sono gli ultimi cereali che mi rimangono. Non è vero. Dovrai commentare col nome della persona che odi. Vi tocca? Lascerai like e inizierai a seguirmi. Barbuto campione. Barbuto sempre piaciuto. Ma come? Questo non è possibile. Il mio miglior amico in realtà mi odia. Mi seguo e Barbuto è sempre piaciuto. Si sa che il fan di Barbuto è sempre piaciuto. Sono un ritato. Come? Guardare Netflix. Tutto il giorno è uno sport. Così mi è stato distrutto un sogno. Con questa challenge prevedo il mio futuro. Prepariamoci allora. Diventerò uno spogliarellista. Diventerò anche singolo allora. Mi andranno via questi brufoli dalla faccia. Diventerò miliardario. Non è giusto questo. Questa macchina non funziona. Barbuto sarà per sempre piaciuto. E si sa. Mi seguirai e manderai il video a qualcuno? Incredibile. Eccolo. La mia vita fa schifo. Non c'è bisogno di ricordarmelo. Da grande diventerò un astronauta. Barbuto arriverà sulla luna invece. Chi sta guardando il video lascerà like e mi seguirà? Barbuto sempre piaciuto. Sono un campeone. Un giorno sarò presidente. Presidente Barbuto. Che petacolo. Eccolo. Sono un invertebrato. Ma come? Questo non è possibile. La challenge dei cereali mancava a tutti. Ma come? Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. E andiamo Barbuto campeone. Mi tingerò i capelli di blu. No però. Basta per favore. Il mio miglior amico in realtà mi sparla dietro. Vabbè tanto lo faccio anch'io. E eccolo. I miei genitori si vergognano di avermi. Questo già lo sapevo. Lascerete like e mi seguirete. Barbuto è il campeone. La terra è piatta. Come no? Sono una cattiva persona. Non è assolutamente vero. Barbuto è sempre piaciuto. Eh, non ce n'è bisogno. Eccolo. Gli alieni esistono davvero. Questo non è assolutamente possibile. Miei amici mi odiano. Ma come? Barbuto è sempre piaciuto. Piaccio a qualcuno. Chi sta guardando questo video lascia la like e mi seguirà. Eh no. Comprerò tutto quello che costa 1 euro su Twitch. Siete arrivati fin qua vuol dire che avete visto tutta la compilation e siete dei grandi. Mi raccomando se vi piacciono gli episodi di Cereali basta che mi seguite su TikTok. Vi ricordo che ci vediamo ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle ore 18 qua su YouTube. Link in bio per il merch spettacolo.